Sarà tra 5 anni? Questo è un domandone, mi piacerebbe rispondere che Varese sarà tra qualche mese che più che 5 anni. Noi abbiamo oggi varato un programma pluriennale, un programma sfidante, un programma a mio avviso concreto però, con tre rami principali come potete vedere raffigurato qui alle mie spalle dove ci occuperemo della sostenibilità del nostro territorio e dell'attrattività delle nuove generazioni. A mio avviso sono tre rami che però si uniscono a un unico tronco nel quale ci sono, noi abbiamo definito l'operation della Camera di Commercio, quindi tutte le attività che sono sempre state fatte da questa Camera negli anni e che sono servite ad arrivare fino a qui. Ma nei tre temi principali ci occuperemo di portare una nuova residenzialità all'interno della nostra provincia, noi crediamo che i giovani debbano tornare a credere nella nostra provincia nel bello di vivere qua, crediamo che i giovani debbano credere nelle nostre turismo, in quello che noi vogliamo sostenere e sviluppare, che debbano credere nell'industria, in quella che in questi anni è sempre stata radicata e che ha sempre avuto la capacità di trasformarsi e di innovarsi e ancora oggi avrà la capacità secondo me di affrontare questa sfida di innovazione che con l'intelligenza artificiale ci sta presentando. Sulla parte della sostenibilità, Malpensa Fiere si avvierà a essere una delle prime comunità energetiche sul territorio sicuramente regionale, ma anche nazionale e avvieremo degli importanti progetti legati sempre al polo di Malpensa Fiere per costruire una centrale d'economia circolare su determinati settori per far sì che possa diventare anche quello magari una nuova figura produttiva per il nostro territorio. Il programma è molto vario, ci saranno tantissime altre attività e sicuramente non mancherà aggiornarvi man mano che andremo avanti con le azioni.